Ieri mattina Bari è stato presentato nella sala riunioni direzione generale trasporto il protocollo d'intesa tra Ferro Tramviaria e Aeroporti di Puglia. La seguita per noi Francesco Rossi. Vorrei mutuare le parole del presidente di Ferro Tramviaria. Dobbiamo unire cuore e cervello, nel senso che noi dobbiamo fare una scelta strategica. Continuare a fare parcheggi o incentivare al massimo l'utilizzo di questo mezzo, che è anche molto conveniente. La riduzione della CO2 si ottiene solo offrendo una valida alternativa. Il Piano Nazionale degli Aeroporti ha definito un'interconnessione con le ferrovie. La nostra grande intuizione, parlo dei pugliesi della Puglia, è stata quella di avere un passante ferroviario all'interno dell'aeroporto di Bari. Dobbiamo sfruttarlo al massimo e fare in modo che gli altri tre scali siano coperti allo stesso modo come Bari. Quindi è un percorso che parte, ne parleremo sempre di più, rendendolo accessibile anche dal punto di vista economico. Nel 2022 abbiamo trasportato 640.000 viaggiatori, di fatto raddoppiando i viaggiatori trasportati nel 2019 nella fase anti-Covid. A luce di tutto questo, ma noi abbiamo sempre saputo che il collegamento ferroviario-aeroportuale aveva una sua valenza trasportistica importante, non fosse altro per l'esplosione poi anche turistica nel nostro territorio pugliese. I nostri rapporti con l'aeroporto di Puglia sono sempre stati di strettissima e grandissima collaborazione, ma ci siamo confrontati più volte verificando che la crescita dei viaggiatori aeroportuali corrispondeva alla crescita che stavamo avendo sul trasporto ferroviario. Abbiamo ritenuto che fosse il caso di valutare la possibilità di portare avanti delle attività condivise di valorizzazione del trasporto ferroviario e quindi di fatto di favorire questa intermodalità tra il trasporto aereo e il trasporto ferroviario. Il trasporto ferroviario, come sapete, è comunque un trasporto che è ecologicamente sostenibile e l'idea di aeroporti di Puglia, di incentivare l'uso del treno, fa sicuramente onore ad aeroporti di Puglia che ci ha concesso, attraverso questo protocollo, di poter aumentare la visibilità dei nostri servizi all'interno dell'aeroporto. I progetti del piano regionale di trasporto prevedono che entro pochi anni la nostra rete sarà interconnessa alla rete nazionale. Questo consentirà ai treni di arrivare all'aeroporto di Puglia dal sud della Puglia, quindi da Lecce, Brindisi, da Taranto e da nord tramite la stazione di Barletta, quindi anche da Foggia si potrà arrivare al caro Viti. Stiamo parlando di un progetto estremamente complesso che in gran parte è già realizzato e ritengo che in prospettiva la Puglia avrà veramente un sistema di trasporto intermodale unico in Italia.